Sono più di 30.000 i metri quadrati di terreno contaminato su cui insiste la struttura dell'ex conceria CAP di Via Penne a Chietiscalo, impianto dismesso da anni e tornato prepotentemente all'attenzione delle cronache dopo l'allarme lanciato dall'ASL che sollecita per l'ennesima volta una bonifica urgente del sito contaminato che rappresenta un vero pericolo per la salute dei cittadini. Proprietaria dell'ex conceria è la Revi SRL, una società di Roma fallita già da qualche anno. Il sito è stato più volte messo in vendita, ma le asse sono sempre andate deserte, presumibilmente a causa dei costi elevati per bonificare l'area, dove insistono rifiuti interrati fino a 4 metri di profondità. Già il 14 maggio del 2018, a seguito dell'incontro tra Regione, Comune, Provincia, ASL, Arta e Arap, il verbale estilato riferiva alla presenza preoccupante di composti come dicloroetilene e tricloroetilene a pochi passi dal fiume Pescara, unitamente a un indice di rischio della falda acquifera non accettabile per l'uomo nel raggio di 1000 metri dall'ex conceria. Nel verbale, la ASL invitava a fare presto perché già dal 2006 la bonifica era considerata una necessità in relazione al fatto che vivere in siti contaminati aumenta del 9% il rischio di contrarre tumori e dell'8-16% la probabilità di sviluppare malattie respiratorie acute e asmani bambini. Bonificare il sito significherebbe investire circa 3 milioni e mezzo di euro, una spesa che il Comune di Chieti, per il quale si rende necessario il risanamento immediato dell'area per tutelare la salute dei cittadini, non è in grado di sostenere né la bonifica può essere adebitata alla società proprietaria del sito, oggi fallita. E mentre il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, è tornato a sollecitare il governatore Marsilio, ripresentando alla Regione le stesse istanze inoltrate in precedenza all'ex giunta d'Alfonso per bonificare il sito, Maria Luisa Tricca, portavoce del Comitato insieme per Via Penne, ha ribadito la necessità di tutelare innanzitutto il diritto alla salute dei cittadini. Il problema più grande è quello del pericolo che corrono tutti i cittadini, in quest'area c'è appunto la classificazione come SIR, come sito di interesse regionale proprio per la bonifica, per la necessaria bonifica, c'erano soldi stanziati, 11 milioni di euro nel Master Plan Ambiente, c'erano tante, ci sono tante promesse, quelle che sono state fatte in questi anni dalla Regione, perché intervenisse la Regione su questo sito, perché in parte del sito è di privati, ma parte del Consorzio Industriale. L'Arap dovrebbe prendere in carico la bonifica di quest'area, io spero che non soltanto ci dicano che lo vogliono fare, ma ci diano certezze sui tempi nei quali lo faranno. Già dal 2008 era stata individuata con una caratterizzazione effettuata dall'Arta, in realtà i cartelli che vietano la coltura degli orti, l'utilizzo dell'acqua dei pozzi per irrigare, sono stati messi soltanto lo scorso anno. Qui passa un pezzo di tratturo e tutti gli anni passano le pecore e pascolano tranquillamente lungo questi posti inquinati.